Salve a tutti qui, Francesco De Carlo da Roma, vi parlo per invitarvi al Festival Assieme Europa di Trento. Io lascerò questa splendida capitale in un clima tanto primaverile solo per venire da voi a Trento, venerdì 25, che ormai è domani, al Festival Assieme Europa con il mio spettacolo di stand-up comedy. Tutta colpa della Brexit, parleremo di Brexit, parleremo di Europa, parleremo della mia storia, la storia di un comico italiano che decide di lasciare l'Italia e di partire per Londra per realizzare i suoi sogni proprio quando gli inglesi decidono di lasciare l'Unione Europea. Quindi ci sono tante cose che vi devo raccontare, accorrete numerosi, venerdì 25, Siamo Europa Festival Trento. Ciao!